Guarda, 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 sto leggendo, state calma, allora guarda, sono degli scontrini, degli scontrini, degli scontrini di un negozio a Sutri, no tu adesso mi devi spiegare, mi devi spiegare che cosa ci va a fare nostro figlio così, così tante volte a Sutri, no me lo devi spiegare, non lo so, non so perché ci va in questa norcineria, sono tanti scontrini, anche costosi perché, guarda sta salamella, sembra una gioielleria, non so, 26 euro una salamella, 48 euro un caciocavallo, è troppo 48 euro un caciocavallo, Alberto, con tutto quello che ti ho detto, tu ti preoccupi del prezzo, ma mica l'ho messo io il prezzo al caciocavallo, l'aveva messo il proprietario di questa norcineria, l'aveva messo 48 euro, che è un po' caro a dir la verità, amore ti sto dicendo che il nostro figlio è un toy boy, un toy che? Allora, Giorgino nostro ha una donna più grande di lui, che lo riempie di regali Eh vabbè, mamma mia come la fai grande, esagerata sta cosa, ha una donna più grande che gli fai regali Grazie a tutti